Mister Telesca inizia una nuova avventura in una squadra profondamente rinnovata, organico, nuovo. Quali sono allora le insidie principali nell'affrontare questa stagione? Gli obiettivi, come ho detto prima, sono sicuramente quelli di creare un gruppo nuovo. Quindi essendo una squadra rivoluzionata bisognerà cercare subito di far gruppo all'interno dello spogliatoio e crescere sotto questo aspetto. E poi trovare subito un'identità tattica perché comunque è un campionato molto molto difficile, con squadre molto competitive. Quindi sicuramente ogni domenica si parte in maniera molto difficile. Che cosa la intriga particolarmente di questa avventura? Sicuramente ho la voglia da parte della società, ho trovato una società che è ambiziosa, che ha voglia di raggiungere traguardi importanti, c'è ambizione e quindi c'è fame di raggiungere qualcosa di importante. Sono sicuramente un po' delusi da quello che è stata la seconda parte della stagione e quindi c'è voglia da parte di tutti, c'è voglia di rivalsa e di riprendere a fare un campionato importante in un contesto molto molto difficile. Obiettivi è presto per parlarne, ha già detto che l'importante sarà innanzitutto fare gruppo. La società le ha chiesto qualcosa in particolare? No, la società le ha chiesto di fare un campionato di prima fascia, quindi di stare nel gruppo delle migliori. Sappiamo che tutto questo sarà difficile perché ci sono squadre, come ho già detto in precedenza alla nostra collega, che sono molto attrezzate, hanno cambiato poco, quindi sicuramente hanno un'organizzazione di base e hanno fatto degli inserimenti mirati e sicuramente queste squadre partono avvantaggiate rispetto magari ad altre squadre come noi che abbiamo cambiato molto.